e cari amici di ciao como buon pomeriggio dal lago dove eravamo questa mattina ma dove siamo anche questo pomeriggio in canoa come vedete siamo nella baia di pescallo a bellagio uno dei posti più belli del nostro territorio guardate che spettacolo con michele di bellagio water sport ciao michele buongiorno buongiorno fatti vedere così ecco qua perfetto grazie michele che ci sta trainando con la sua canoa professionale con la quale fa i giri giusto tu porti in giro tour in canoa ecco questo è un'occasione io ve lo dico se volete venire ciao sì buongiorno oggi giornata di lago straordinaria una giornata meravigliosa la giornata più calda di questa settimana siamo 35 gradi o giù di lì insomma c'è una fa pazzesca ma abbiamo tanta voglia di refrigeri un po cerchiamo di portarvelo grazie a michele allora qui è pescallo posto stupendo michele allora questa è la baia di pescallo circa 10 minuti a piedi dal centro turistico di bellagio che lo si raggiunge tramite una scalinata che attraversa l'area di fondazione rock felder che qua sulla vostra destra ok paesaggio particolare ex paesaggio di pescatori esatto sia una baia di pescatori però diciamo che una piccola chicca turistica di bellagio allora molti ancora non scoperta e dico a volte fortunatamente saluta il nostro amico enrico armini il direttore del hotel imbarcadero di como nostro fedelissimo amico bellagio ci saluta claudio vorrei bellagio como non lecco si vorrei sì sì no certo certo ovviamente abbiamo detto che provincia di como assolutamente spettacolo davvero come dice la nostra amica agnese siamo sul lago siamo proprio nella punta insomma vai 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 tu che io ti seguo perché ovviamente siamo attaccati con la canoa ovviamente con il giubbetto sì lui fa anche guida fa anche guida silvia quindi se ecco esatto se volete venire lui vi porta in canoa e poi vi fa vedere le bellezze di bellagio vi fa conoscere il borgo ciao da empoli annalisa buongiorno silvia buon pomeriggio a tutti voi ripeto questo tour in canoa in questa giornata torrida sul lago in caldo esagerato e la voglia di tuffarci che è altissima però va beh resistiamo va ciao william l'amico dei pescatori alfa che questa mattina ci ha portato in barca adesso è william oggi in canoa abbiamo fatto doppietta prima la barca e va sì ti faccio mi faccio trainare daniele è perché non riesco da solo a remare e a fare le immagini non c'ho ancora la gopro tra poco ce l'avremo e quindi va beh caldo non c'era ecco dice enrico che non c'è la breva oggi vero bassissima dice michele una breva bassa 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 ciao tania buongiorno anche a te è uno spettacolo è qui veramente il lago visto dal lago bello ecco il costo ci chiedono michele quanto costa ok bellagio water sport.com ok per trovate le informazioni calendario online attività e anche prenotazioni ovviamente ok perfetto bellissimo angi ciao ciao annamaria beato te è in effetti oggi sono fortunato invidia sì lo so è una giornata pazzesca stamattina in barca questo pomeriggio in canoa bel lavoro si è bene in effetti ornella siamo fortunati è perché si lavora anche in canoa sembra uno scherzo però è così enormi però vi stavo facendo vedere un qualcosa di bello davvero di stupendo guardate il lago oggi quanta gente le barche turisti e qui siamo proprio dalla parte opposta c'è la sponda lecchese è laura e immagino invidia sì da di là c'è la sponda di lecco qua invece siamo a bellaggio punta spartivento dov'è? punta spartivento è avanti in questa direzione circa un chilometro ah ecco punta spartivento è più avanti ancora esattamente questa è la fondazione rockfeller allora tutto questo spazio davanti a noi lo vedremo meglio in un attimo è fondazione rockfeller fondazione rockfeller esatto centro studi e conferenze esatto è un centro studi come dice michele lo specifico la zona proprio qua davanti a noi il gruppo di edifici qua davanti a noi si chiama sfondrata ok ok area di sfondrata dove c'è un centro meeting uno dei due centri meeting all'interno di fondazione molto bene perfetto volevo portare mia figlia dice agnese si potrebbe andare anche senza guida dice questo ecco lui è una guida quindi tu la canola la puoi dare anche senza allora con me personalmente come attività no io eseguo solamente ok perfetto ci sono altre aziende sul lago che eseguono il noleggio esatto tutti fanno anche il noleggio esatto con lui andate a vedere tutto quello che c'è di bello caragnese qui a bellaggio proprio è fatto il giro del promontorio insomma devo dire che è affascinante ripeto questa è la fondazione rockfeller a bellaggio dove ci troviamo in questo torrido pomeriggio mamma mia che caldo mamma mia veramente ecco un po di refrigerio con l'acqua del lago perché è pazzesco e torniamo a noi torniamo quindi al nostro tour in canoa con l'amico michele bellaggio water sports dove trovate anche tutte le info le possibilità di prenotare questo tour che noi vi stiamo facendo vedere quest'oggi grazie a te caragnese lago bellissimo eh l'abbiamo visto anche questa mattina con William guardate che colore bellissimo splendido eh certo abbiamo uno dei posti più belli al mondo e come mai in questo momento ve lo possiamo pienamente confermare molto scaffi sul lago guardate eh beh tempo di vacanza tempo di relax ovviamente per chi può permetterselo ovviamente eh e noi ci siamo permessi questo pomeriggio di eh semi relax eh assieme a Michele qui dalla eh zona di pescallo a bellaggio vedete dalla parte opposta c'è tutta la sponda lecchese del eh lago buon pomeriggio fa un caldo allucinante Gabriella si si te lo confermo il caldo oggi è veramente altissimo ehm e c'è un'afa esagerata quindi ecco oggi si sta veramente bene sul lago chi ha la possibilità in piscina e soprattutto la possibilità di godersi questi splendidi paesaggi occio alle onde dice Silvia ma attenti queste vanno bene queste vanno bene queste vanno per il momento sono onde abbordabili gestibili ecco diciamo così gestibili perfetto ehm perfetto quindi andiamo avanti eh il nostro appuntamento questo pomeriggio qua sul lago di Como ovviamente a Bellagio con Michele che ci sta facendo proprio da guida con la canoa canoa che ecco per uscire con la canoa ovviamente se uscite con Michele sarà lui a darvi tutto l'equipaggiamento però è necessario io ve lo ricordo anche eh l'equipaggiamento base che è il giubbotto vedete il giubbotto che indossa Michele è obbligatorio per uscire in canoa questo è importantissimo dirlo perché è bello il lago però non si deve fare i temerari bisogna ovviamente uscire in assoluta sicurezza vale per lo scinautico vale per la vela ovviamente e vale anche per la canoa ehm Miranda buongiorno a te Gabriella buon pomeriggio a tutti voi cari amici abbiamo anche il sole contro non riusciamo neanche a leggere molto bene eh i vostri nomi però vi saluto tutti davvero torniamo verso Pescallo che è qui vedete sullo sfondo guardate che bellissimo il paesaggio il promontorio qui di Pescallo eh e poi dopo la fondazione Rockefeller l'abbiamo già vista e poi più avanti c'è proprio il centro di Bellagio ehm bene cari amici eh se c'è la possibilità se volete davvero venite qui e ne vale davvero la pena eh per godervi qualche ora di relax un altro dei punti belli che ho fatto vedere del nostro territorio eh Enrico eh sì Michele scusa ci sono i turisti in questi giorni ci chiedono gli amici allora una situazione abbastanza altalenante ah ok eh nel weekend c'è qualcuno anche in settimana eh non c'è non c'è il vostro pubblico che è quello americano di solito vero non c'è quest'anno eh beh certo è vero è vero è vero mi respalda ma vai purtroppo non c'è vai tranquillo non ti preoccupare lo aspetteremo l'anno prossimo prossimo anno 2021 ovviamente americani e australiani chiaramente al momento non possono viaggiare ed è ovvio lo sanno un po' tutti sul lago di Como che sono il nostro eh business anche anche includo anche me stesso eh infatti eh chiaramente stiamo cercando di lavorare un pochino con gli europei eh beh certo è vero parlo di me parlo anche dell'altra realtà comunque mi sento in parla comunque si riesce un po' a lavorare dai voglio dire giornata meravigliosa è questo giorno la stagione è buona a livello meteorologico è un po' talenante ma buona ehm riusciamo a far qualcosina riesco personalmente a far qualcosina perfetto non ho la costanza che avevo nelle stagioni precedenti eh beh immagino però non ci possiamo fare nulla stiamo facendo del nostro meglio va bene allora io invito ancora gli amici che vogliono venire a trovarti che sei qui a Pescallo eh vi faccio vedere l'ultimo scorcio del lago anche perché ehm veramente fa un caldo pazzesco quest'oggi l'unica voglia che è di puttuffarsi in acqua e di restare dentro però dobbiamo no vabbè svolgere il nostro servizio però in effetti svolgere il servizio in canoa o in barca è piacevole non è male non è male c'è c'è chi lavora peggio di noi assolutamente Michele sei stato un grandissimo compagno di avventura in questo pomeriggio pazzescamente caldo e torrido eh gli ultimi scampoli del nostro bellissimo lago con la canoa grazie e buon pomeriggio a tutti voi Bellagio anche qui altra perla non a caso si chiama la perla del lago posto veramente bellissimo onde che sono gestite facilmente quindi andiamo via tranquilli in canoa questo pomeriggio va bene grazie a tutti per averci seguito e venite magari a Bellagio perché ne vale davvero la pena guardate qui che spettacolo sembra di essere in un posto meraviglioso anche a volte lo vediamo in Liguria questi posti così ecco ce l'abbiamo qui a un passo da noi